Oh! Dietro fronte, un vicolo cieco! Concercente, qui non siamo alla locanda! Vuoi proprio che Zorro ci scopra? No, 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 ma ho pensato che dal momento che di lui non c'è traccia... Cosa? Vostra eccellenza? Voi? Monasterio? Le miniere di sale? Vi ci spedirò non appena avremo terminato questa assurda ma necessaria caccia al ruolo! Dentista, lasciaci soli! Sì, capo! Madame, non c'è ragione di preoccuparsi! Il nostro amico, il capitano Monasterio e i suoi volontari sono nel deserto alla vostra ricerca! Lasciamo questa stamberga e rifugiamoci in un luogo più adatto ad una signora del vostro rango! La mia assienda! È una splendida idea! A Zorro non verrebbe mai niente di cercarmi lì! Prego! Grazie! Donia Verdugo e Don Malapensa! Bene, bene! Sembra che quei due siano diretti all'assienda di Malapensa! Che ne diresti di organizzare una piccola riunione tra Donia e Isabella e i valorosi soldati che la stanno cercando, tornando? Non credo che troverete Zorro laggiù, sergente! Io suppongo di no! Sono ordini del capitano! Zorro! In persona! Aiuto! Zorro! Zorro è dietro di noi! Cosa? Capitano! Dietro a fronte! Che vi succede, amici? Avete perso la strada? Spottosso, soldati! Inseguiamolo! Avanti! Presto, presto! Ma avete visto? È Zorro! Più veloce, tornate! Dobbiamo arrivare lì prima di loro! Me ne starò qui per qualche giorno e poi ricomparirò Dichiererò di essere fortunosamente sfuggita alle grinfie di quell'orribile Zorro Peccato che questo coprirà di vergogna il povero capitano monasterio che sarà costretto a dimettersi E il governatore non potrà fare altro che nominare il mio adorato marito nuovo alcalde della città di Los Angeles Salute, salute a tutti!